DAV ha avuto un'idea geniale per pubblicizzare il suo brand. Piuttosto che utilizzare modelle e persone esteticamente perfette, ha scelto di celebrare la bellezza naturale mostrando donne reali di tutte le forme, etnie ed età. E l'obiettivo era quello di sfidare gli standard di bellezza irrealistici promossi dalle industrie della moda e della pubblicità e promuovere una percezione più autentica e inclusiva del concetto di bellezza. Una delle campagne più famose di Real Beauty è stata quella in cui DAV ha assunto un artista per disegnare i ritratti di donne basandosi sia sulle loro descrizioni se stesse sia su quelle di estranei. Il risultato? Beh, le donne tendevano a descriversi in modo molto più critico e severo mentre gli estranei le ritraevano come più belle di quanto si percepissero. E questa pubblicità è stata in grado non solo di catturare l'attenzione ma di portare una marea di persone a diventare clienti di DAV che magari prima erano clienti di altre aziende. E questo è stato possibile grazie a quello che io chiamo l'info marketing ovvero il marketing delle informazioni. Se vuoi capire come creare una strategia di info marketing all'interno della tua attività per aumentare la percezione che i clienti hanno di te, dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi beh, continua a seguire questo profilo perché ogni singolo giorno ho strategie gratuite che condivido con tutti i miei follower.